Fare piena luce su una vicenda tanto triste quanto ancora oscura. Questo imperativo d'obbligo ha caratterizzato venerdì poveriggio la seduta del Consiglio Comunale di Fontana Liri che nel giorno in cui Serena Monlicone avrebbe compiuto i suoi primi 40 anni le ha attribuito la cittadinanza noraria post morte. Serena viveva nella vicina Arce ma nel boschetto di Fonte Cupa che si trova proprio nel territorio di Fontana Liri fu trovata cadavere domenica 3 giugno 2001 proprio dai volontari della protezione civile Santa Barbara di Fontana. Alla seduta consigliare di venerdì tenutesi presso il centro polifunzionale di Via Fiume hanno partecipato in tanti e tra questi c'erano Carmine Belli ingiustamente arrestato per l'omicidio di Serena per poi essere assolto diversi rappresentanti delle forze dell'ordine e soprattutto Luciano De Emanuele il capo della procura di Cassino che non ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni cronisti. Il processo di primo grado terminato tra veleni e polemiche il 15 luglio scorso davanti alla corte d'assise del tribunale di Cassino non ha saputo ancora individuare le responsabilità di questo omicidio avvenuto il primo giugno di 21 anni fa e la ricerca della verità e non di una verità è stata di nuovo sollecitata da Consuelo, la sorella maggiore della studentessa di Arce. Continua questa battaglia nel ricordo di Serena oggi, lei avrebbe compiuto gli anni e soprattutto memoria del papà che ha lottato ogni minuto della sua esistenza per ricercare la verità, la giustizia, speriamo che arrivi. Il Consiglio Comunale di Fontanaliri ha anche approvato il progetto per la realizzazione di un parco alla memoria di Serena Mollicone nel luogo in cui la sua vita si interruppe brutalmente a soli 19 anni. Questa è una vicenda che ha colpito tutta l'Italia e non solo il nostro territorio ma in particolare poi il nostro comune e il comune Lemedrofi, visto che lei era di Arce, ma è ritrovata qui a Fontanaliri. Quindi abbiamo ritenuto doveroso anche con la speranza e una richiesta che presto possa avere giustizia. Il comune di Arce prima di Natale organizzerà una giornata della memoria proprio in ricordo di Serena. È una cosa molto bella, ringrazio Giambio e tutta l'amministrazione che hanno fatto questa manifestazione così importante nel compleanno di Serena. Io ho parlato poco fa con i familiari e prima della fine dell'anno faremo una delibera in Consiglio Comunale per dedicare un giorno della memoria in favore di Serena Mollicone.